Il circolo tennis Fossombrone è pronto ad ospitare l'evento tennistico più importante dell'anno. Da sabato 4 a domenica 19 giugno torna il torneo Open Maschile Femminile Città di Fossombrone. Anche per la stessa edizione dell'evento, tra i più prestigiosi delle marche e non solo, sono attesi decine di partecipanti all'iniziativa che cresce nel tempo e che conferma il grande interesse di atleti provenienti da tutta Italia. Ad oggi quanti sono gli iscritti? Ad oggi sono più di 110 iscritti sia nel tabellone maschile che femminile. È possibile ancora iscriversi? Sì, le iscrizioni formalmente chiuderanno il 9 giugno per il tabellone finale di seconda categoria. Quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono un Montepremi raddoppiato al pacchetto Hospitality. Enrico, di quanto sarà il Montepremi? Allora, Montepremi quest'anno sarà di 3.000 euro e in più, come diceva già Alessandro, la novità dell'ospitalità è che daremo dagli ottavi di finale per quanto riguarda il tabellone maschile e dai quarti di finale del tabellone femminile, più anche un riborso chilometrico per chi ne vorrà usufruire. Confermato anche quest'anno il patrocinio del Comune di Fossombrone, che crede in questo evento all'insegna del divertimento e dello sport, dell'aggregazione sociale e soprattutto del bel tennis. Sindaco, anche quest'anno il Comune dà il proprio supporto a questo evento? Beh, è il minimo che si può fare per un evento del genere, credo che sia doveroso e lo facciamo in maniera orgogliosamente positiva. Lei gioca a tennis? Fortunatamente per loro no. Quindi rimarrà qua a guardare? Lo guardo, lo guardo con piacere, lo guardo con ammirazione e purtroppo non ho questa passione che invece traspare da chi lo fa, lo fa con tanto amore e soprattutto vedo che a Fossombrone ci sono degli ottimi giocatori, degli ottimi ragazzi e soprattutto anche meno giovani. Il torneo si svolgerà in una prima fase di qualificazione che si terrà durante la prima settimana per poi proseguire con gli sviluppi dei rispettivi tabelloni finali i cui incontri si disputeranno nella seconda settimana. Il tutto immerso in uno splendido contesto sempre più confortevole e raffinato grazie agli allestimenti e è una zona su cui il Circolo ha appena investito per l'abelimento della struttura. Dunque qua al Circolo è tutto pronto? Oggi si parte? Sì, oggi si parte. Inizia oggi il torneo anticipando qualche partita per l'elevato numero di iscritti che c'è stato e le novità di quest'anno oltre, come dicevano gli altri ragazzi, dell'aumento del monte premi e dell'ospitalità e anche la nuova area che il Circolo Tennis ha deciso di fare quest'anno investendo dei soldi per cercare di rendere il Circolo ancora più accogliente sia per i giocatori che tutte le famiglie dei soci e frequentatori del Circolo. Vi aspettiamo inoltre numerosi per seguire sia tutte le partite del torneo prestigioso che come tutti gli anni raggiungerà un ottimo livello e inoltre per godere di tutte queste zone e aree relax che abbiamo messo a disposizione per rendere il più accogliente possibile il Circolo.